Buongiorno, sono Lia Coniglio e lavoro presso l'Istat di Milano. Insieme ai colleghi Giulia De Candia e Andrea Marino, ricercatori della sede di Genova, abbiamo progettato e prodotto, anche con l'aiuto di altri colleghi delle nostre sedi, 21 focus territoriali sul censimento delle imprese che sono oggetto di questo poster. Il lavoro ha come obiettivo quello di mostrare una visione d'insieme sul sistema delle imprese locali. Questo lavoro rappresenta un esempio di forte sinergia fra gli uffici territoriali e restituisce quindi al territorio informazione statistica di qualità. I fascicoli sono 21, uno per regione e più quelli delle province autonome, e sono quindi a carattere regionale, ma i dati in essi contenuti sono più dettagliati dal punto di vista territoriale. Ogni fascicolo è corredato da un'unità, da un insieme di tavole statistiche che sono state oggetto di analisi. I dati si riferiscono, come dicevo prima, al censimento delle imprese che si è svolto tra maggio e ottobre del 2019. Questi censimenti permettono di avere un quadro di insieme su quelle che sono non solo il mondo delle imprese, ma anche delle caratteristiche qualitative. Mettono in luce le differenze, le terroginità e le specificità di ciascun territorio. Questi censimenti sono dei censimenti permanenti e il censimento delle imprese si riferisce ad un più ampio sistema e armonizzato sistema di censimenti permanenti, non più condotti tradizionalmente. Di essi fanno parte il censimento dell'agricoltura, il censimento delle istituzioni pubbliche, ambedue condotti nell'anno corrente, e il censimento delle istituzioni no profit che si svolgerà nel 2022. Dicevo prima non sono più tradizionali, sono infatti basati sull'osservazione di unità campionarie. Questo riduce notevolmente il fastidio statistico, ma anche i costi dell'intera operazione. Sono comunque uno sforzo notevole dal punto di vista organizzativo e anche dal punto di vista metodologico. Questi campioni, ovviamente diversi a secondo di censimento e incensimento, hanno però un unico obiettivo, quello di fornire un quadro aggiornato, tempestivo e accurato di quello che è il sistema delle unità economiche del Paese e dei territori. Questi fascicoli territoriali che sono oggetto di questo post sono disponibili sul sito Istat, sul sito dell'Istituto, sul sito web. Insieme ad essi c'è anche il fascicolo nazionale che contiene un'interessante nota metodologica riguardo il disegno campionario, l'organizzazione e la raccolta dati e la metodologia del calcolo delle stime. Quindi unità campionarie, ma non solo, perché i dati dei censimenti vengono poi integrati con i dati presenti da archivi amministrativi ed archivi statistici. Il censimento delle imprese ha visto coinvolte circa 280.000 unità imprese con tre e più addetti. Queste sono un campione rappresentativo dell'universo che è pari all'incirca ad un milione di imprese italiane che rappresentano il 24% del totale, però producono un valore aggiunto pari all'84% di quello totale delle imprese italiane e assorbono circa il 91% delle imprese e degli addetti nelle imprese. Come dicevo prima, questi dati sono stati poi integrati con i dati degli archivi e dei registri statistici e amministrativi. Questi rappresentano un esempio di ottimizzazione della complementarietà di dati e di fonti, oltre che permettono di poter calcolare dei nuovi indicatori. Dicevo prima, il censimento sulle imprese restituisce informazioni di qualità sulle strategie delle imprese e quindi danno una visione d'insieme di quello che è l'evoluzione strutturale delle imprese. I temi più importanti di questi fascicoli riguardano appunto la strategia delle imprese, riguardano la gestione del personale, le relazioni con clienti, fornitori e finanziatori, la sostenibilità ambientale e sociale delle imprese, le innovazioni tecnologiche e la digitalizzazione, oltre che tante altre informazioni che troverete nel poster e poi soprattutto nei fascicoli. Queste altre informazioni, come vi dicevo, sono oggetto dei fascicoli. I fascicoli sono stati presentati il 12 maggio di quest'anno con un evento, le cui informazioni trovate anche questo sul web, che si componeva di una parte plenaria, più di scenario e di strategia, e invece una parte territoriale con otto eventi paralleli che hanno messo in luce non solo i dati di questo censimento, ma anche quello di due rilevazioni speciali condotte nel 2020 sull'impatto della pandemia sulle imprese. I dati sono stati presentati in una visione integrata anche con l'apporto, la presenza di rappresentanti autorevoli del mondo delle imprese e del mondo del system e del mondo accademico. Spero che troverete interessanti i contenuti del poster e dei fascicoli e vi saluto informando che la prossima edizione del censimento delle imprese è programmata per il 2022. I contenuti di questa edizione saranno anche utili al PNRR e il tutto avverrà in coprogettualità con i principali interlocutori nazionali e locali. I censimenti infatti non sono di proprietà dell'istituto, ma è un esempio di una grossa partnership con i nostri principali interlocutori. Vi ringrazio dell'attenzione.